Grazie a tutti, intanto benvenuti e ringrazio i colleghi che mi hanno preceduta perché sono riusciti a, come dire, con una serie di tasselli, di spunti, ho sentito parlare di processi, ho sentito parlare di coerenza, consistenza, di gestione di persone che non siano solo talenti, sicuramente tutti elementi che spero in qualche modo si incastrino a tassello in quello che vi sto per raccontare, perché quella che vi sto per raccontare è di fatto una storia. Nel venire qui ho cercato di trovare qualcosa che potesse proprio far parte un po' delle nostre corde e che fosse qualcosa di reale e concreto che abbiamo agito nel quotidiano. Tra gli hobby che ho c'è quello di raccogliere frasi, non necessariamente celebri, ma frasi che sento dire anche da persone assolutamente comuni e che in qualche modo mi ispirano o che penso potranno ispirarmi nel corso delle mie esperienze future e quindi parto da questa frase perché era un po' l'essenza dell'intervento di oggi. Quando siamo partiti nel contesto di riferimento che abbiamo avuto e che in realtà viviamo tutti i giorni, ci siamo sentiti dire come comunità HR all'interno diceva che dovevamo ovviamente mantenere le risorse motivate, creare una condivisione di intenti. Tenete presente che CEVA ha cambiato pelle molte volte. Prima era TNT, poi siamo stati comprati da un fondo comune di investimento americano che tuttora detiene gran parte delle nostre quote, quindi con tutto quello che ne consegue in termini anche di stress sulla performance, redditività e quant'altro. Abbiamo cambiato pelle anche da un punto di vista organizzativo, avevamo una responsabilità regionale, poi siamo diventati una country che riporta ad una regione, quindi veramente tanti cambiamenti e al di là dell'organizzazione voi sapete bene che in mezzo ci sono le persone e le storie di ciascuno che compone l'organizzazione con situazioni di successo e anche spesso sofferenza legata a tutti questi cambiamenti che non sono facili. Quindi bisognava comunque, ovviamente bisogna sempre creare condivisioni nella vision di intenti e sviluppare competenze. Questa è stata un po' la nostra reazione come HR, come dire aiuto, ci sentivamo un po' così, nel senso che abbiamo incominciato a dire, beh insomma non abbiamo budget, non mi dilungo su questo elemento ma non abbiamo praticamente budget, non avevamo nessun trainer e non abbiamo nessun trainer professionista all'interno della nostra struttura organizzativo, nessuna piattaforma tecnologica a supporto che è assolutamente fondamentale e l'ambiente ostile. Cosa voglio dire con questo? Evidentemente ci trovavamo a che fare con, come dire, colleghi che non è che proprio ci accogliessero a braccia aperte nel dire guarda ci devi un po' aiutare nella formazione piuttosto che devi mandare le tue persone in formazione quindi cambiare un po' l'idea che c'era, con magari anche enti, a volte il finance ma non è colpa sua che dovendo tagliare i costi ti dice sì ma il budget non c'è, quindi devi un po' mettere insieme tutti questi elementi, il vertice che ti chiede delle cose, il finance che deve tagliare, tu devi formare eccetera eccetera. A questo punto come tutti i processi di cambiamento in questa storia abbiamo aperto il nostro frigorifero e abbiamo detto beh insomma è un po' come se noi stasera andiamo a casa e diciamo non ho niente da mangiare, non è vero, non è qui che non abbiamo niente da mangiare, un piatto di pasta magari in pianco con un filo d'olio riusciamo a farcelo tutti e noi abbiamo incominciato a pensare quelle che erano le risorse disponibili, quindi ho sentito parlare anche prima di fondi interprofessionali che sono un'opportunità che ovviamente va gestita per non appesantire poi tutta una serie di processi che non vi devo evidentemente spiegare. Avevamo dei manager dotati di skills tecniche e mi spiego CEVA si occupa di logistica integrata quindi fondamentalmente trasportiamo la merce dei nostri clienti prima la stocchiamo, quindi stocchiamo il prodotto finito e poi trasportiamo in tutto il mondo via, aereo, nave o camion o ferrovia questa merce in tutto il mondo. Le scuole non preparano in modo particolare alla logistica tranne alcuni enti con cui stiamo collaborando che hanno anche dei master specifici, quindi ci siamo guardati dentro e quello che avevamo come patrimonio erano le competenze sicuramente dei capi funzione che potevano in qualche modo supportarci. Ci siamo un po' incensati dicendo che Leicard tutto sommato aveva un po' di capacità come dire organizzativa e anche progettuale. Avevamo la conoscenza del contesto organizzativo perché c'è un rapporto di partnership molto forte con le persone della linea sulla quale poi tornerò che è un po' l'essenza di questa storia e poi c'erano dei fornitori partner competenti sui quali potevamo in alcuni casi contare. Dico in alcuni casi perché ricordiamoci che il budget era quasi assente o molto limitato, quindi abbiamo dovuto ragionare anche su questo. Ogni storia dei protagonisti, i nostri protagonisti sono quelli che vedete e quindi sicuramente il fatto che ci sia stato in qualche modo abbiamo dovuto lavorare perché il vertice sponsorizzasse un certo approccio, una certa modalità ed evidentemente determinate attività, perché sappiamo bene che senza una sponsorship forte non vai da nessuna parte, fondamentalmente all'interno dell'azienda. Salto a leicciare in quanto facilitatore in questo perché credo anche che in qualche modo abbiamo il ruolo di spesso là dove il bisogno non venga, qualcun altro più non di me l'ha detto è esattamente identificato, avere la capacità di farsi di creare il bisogno internamente magari facendo vedere le cose da un'altra prospettiva. Poi avevamo i capi, i capi che per noi sono stati i veri agenti del cambiamento e poi le persone che ho voluto mettere come quarto punto, è stato più volte detto oggi e ci credo fortemente, ognuno di noi alla fine è responsabile del proprio sviluppo. Faccio degli esempi concreti, quando mi sento dire ancora oggi che l'azienda non paga i corsi di inglese allora A, te lo pago se hai un ruolo per cui sei in stretto contatto con evidentemente ambienti internazionali B, se per te è un progetto di vita a cui credi fortemente, trovi un modo per far sì di creartela questa opportunità. Ti guardi dei bei film in inglese, incominci ad abbonarti a riviste in inglese, fai testi e una serie di relazioni tale per cui ci sono oggi anche posti a Milano dove ci sono degli aperitivi che vengono fatti totalmente in lingua inglese e ti paghi il costo dell'aperitivo. Quindi se per te diventa una componente indispensabile per il tuo ruolo professionale e l'azienda per mille ragioni non te lo dà, te lo coltivi in un'ottica di assoluta imprenditorialità. Faccio un altro esempio, io posso crearti come azienda il più bel corso formativo ma poi se non ti presenti in aula, come dire, a te la responsabilità di esserci fino in fondo in quella iniziativa. La trama qual è stata? La trama l'abbiamo agita su sostanzialmente tre aree CEVA Academy, formazione tailor made, è quella che abbiamo definito contaminazione delle competenze. Ovviamente non entro poi nei singoli dettagli anche perché tanto è già stato anche detto ve li propongo come argomenti e poi se volete li si possono approfondire. CEVA Academy è una realtà e a tutti gli effetti è un sogno diventato realtà che è partito da zero e quindi ci sono particolarmente affezionata. È stato il successo credo di un'intera comunità, cioè di persone che lavorano in ECHARA ma anche di tutti coloro, di tutti quei capi funzione che di mestiere non facevano i formatori e che in qualche modo sono entrati in questa rete. Quindi oggi molti dei nostri manager sono formatori ed entrano in aula proprio perché da loro abbiamo chiesto un aiuto per trasferire le skills tecniche di cui loro disponevano. Non siamo perfetti perché a questa cosa siamo arrivati all'incontrario per dircela tutta. Nel senso che prima li abbiamo portati in aula, non è stato nemmeno facile convincerli, poi abbiamo iniziato a costruire le competenze di formatori. Quindi in un modo perfetto bisognerebbe ragionare all'incontrario però di nuovo gli ingredienti a disposizione per fare la torta non c'erano tutti. In quel momento non potevamo e l'abbiamo fatto dopo. Per cui negli ultimi due anni stiamo agendo anche nel farli diventare, passatemi il termine, dei formatori professionisti. Il secondo punto è stata cosa che ho sentito la definizione del processo e anche qui mi spiego. Mi sono chiesta perché se io iscrivo una persona a un corso a catalogo esterno in qualche modo cosa potevo trarre come spunto. Quindi anche in questo caso ci siamo dati un catalogo formativo interno. Questo ci ha reso possibile. Le iscrizioni vengono fatte dai capi, non dai singoli individui. Almeno a questa evoluzione, non ci siamo ancora arrivati per quello che è la nostra organizzazione oggi. Le persone vengono iscritte. A questo punto noi riusciamo a far sì che di convocare tutte le aule da gennaio a dicembre e questo viene fatto a novembre e dicembre dell'anno precedente. Le date vengono condivise con i docenti interni. Quindi questo ci fa di fatto, ci dà la possibilità di comportarci come se fossimo un ente di formazione esterna. Se sei in aula bene, se non sei in aula, se ci sarà un'altra edizione partecipi, altrimenti vedremo come recuperarla se riusciremo, sempre per il concetto di prima. Prima non lavoravamo così. Prima era un gran macello, nel senso che c'era un'attività di back office infinita infinita nel tentativo di trascinare in aula gli assenti, nel formulare via via le aule quando ci servivano, quindi con un lavoro. Nel frattempo ricordiamoci che la funzione HR, giusto per darvi qualche numero, negli ultimi cinque anni è passata da 44 a 13 persone. Quindi l'obiettivo è stato o lavoravamo sui processi o non riuscivamo più in qualche modo a fornire il servizio come avevamo in mente. Quindi mi ritrovo molto con quello che ho sentito prima. Poi abbiamo creato un senso di identità, così ci siamo divertiti nel creare un senso di appartenenza per cui oggi questi colleghi, è stato creato power formazione, hanno una banale chiavetta USB con scritto internal trainer, ce l'hai se sei un internal trainer, sennò ovviamente non ti viene conferita e negli ultimi due anni abbiamo pensato anche di celebrarli, in scarsità di budget, quindi con un semplice aperitivo, ma la cosa importante credo che sia il fatto che passiamo con loro ogni anno quattro ore e non di più, in cui gli restituiamo tutto il lavoro che hanno fatto. E mi spiego, oggi abbiamo a catalogo 30 docenti interni, più o meno, ci sono anni in cui ne abbiamo 24, 37, diciamo 30, 25 corsi a catalogo per 75 edizioni. Ovviamente ognuno di loro è una goccia nel mare dei più di 2.000 dipendenti CEVA in Italia, quindi sono 37 su 2.000. Ovviamente ciascuno di loro magari fa 3 edizioni all'anno, 4 edizioni, 10 a seconda. Ora, restituire a loro tutti insieme, come potete essere voi oggi, il fatto che messi insieme generano la formazione di 5.000 dipendenti, perché poi abbiamo quelli che entrano in formazione ovviamente più volte, con circa più o meno 18 ore di formazione garantita dipendente e che in qualche modo contribuiscono al risultato complessivo, di nuovo ci fa creare un senso di identità e di ruolo all'interno di questa comunità. Passo alla seconda parte, che è legata alla formazione tailor-made, partnership con fornitori diversificati. Ovviamente ci siamo scelti, là dove abbiamo potuto, in alcuni casi ovviamente non potevamo far tutto da soli, dei fornitori. Non sono sempre gli stessi, tendenzialmente ovviamente sì, però siamo aperti sempre a nuove ovviamente prospettive. L'importante per noi, proprio perché non abbiamo molte risorse, è quello di customizzare il più possibile le iniziative. Come? Abbiamo tirato in aula i manager e i partecipanti, quindi facendo dei focus group su alcuni argomenti argomenti che possono arrivare da fonti diversi, fa bisogni espressi direttamente dai dipendenti, fa bisogni espressi dal vertice oppure fa bisogni appunto creazione del bisogno che secondo HR in quel momento l'azienda ha. Su questo ci abbiamo creato dei gruppi di lavoro e le persone sono state importante in riunione col fornitore per customizzare l'iniziativa. In questo modo l'oggetto diventa un oggetto di tutti, costruito veramente e in qualche modo diventa tuo. Il terzo elemento, non vi nego un po' copiato anche da altre aziende con il quale siamo entrati in contatto proprio per uno scambio anche di reciproche esperienze e che vediamo da dei buoni risultati è l'insourcing di alcune competenze. Quindi su alcuni temi, in accordo ovviamente sempre col fornitore, si va in aula in accoppiata con l'obiettivo specifico che la persona che in aula apprende le competenze poi fa il delivery, prima aiutato dal fornitore e poi da solo, di tutte le edizioni successive. Questo crea di nuovo un grande motore organizzativo interno perché HR in qualche modo o manager che scegli in funzione di determinate capacità che hanno acquisiscono competenze che non sono necessariamente strettamente legate al loro ruolo. Quindi è come rompere un po' la routine quotidiana di quello che fai e dire vabbè imparo a fare anche un altro mestiere, mi ingolosisco, vedo altre cose. Questo ce lo siamo un po' portati dietro anche dal processo di recruiting durante il quale, soprattutto in posizione executive, è una cosa che anche questa viene spesso fatta in tante realtà, non c'è solo chi fa recruiting a fare la selezione ma si siede insieme a noi persone della linea che in qualche modo vengono corresponsabilizzate di nuovo nel processo di recrutamento della risorsa. Ultima area, contaminazione delle competenze, l'abbiamo chiamata così perché i capi appunto diventano co-designer degli interventi formativi. Nella contaminazione ci abbiamo messo il mentoring, abbiamo un programma di mentoring in corso da 4 anni, di cui i primi due passati su un perimetro regionale più allargato, quindi su altre nazioni e adesso è operativo in Italia da due anni, con circa 22 persone coinvolte a livello di senior executives e all'interno del quale abbiamo anche messo persone che sono state riconosciute dei mentoring naturali all'interno dell'organizzazione perché poi sappiamo che alla macchina del caffè, come dire, si sentono un sacco di cose utili e importanti più che non in tante riunioni che facciamo. Quindi abbiamo chiesto aiuto anche a queste persone. Un'attività di peer coaching che stiamo timidamente avviando. Prima sentivo da altri colleghi il concetto anche qui di dare valore e se vogliamo essere assertivi nel mestiere che facciamo. Quindi sulla parte di peer coaching dobbiamo ancora fare un'infinità di strada, ma piano piano stiamo seminando anche in questo caso un percorso e poi stiamo lavorando ad una sorta di guida degli strumenti di sviluppo organizzativo. Cioè stiamo cercando di creare proprio un elenco di tutti quelli che sono gli strumenti per dare di nuovo ai manager qualcosa di concreto. Perché spesso hai le cose e non le vedi. Allora spesso hai le cose tu o le hai il tuo collega che magari è tanto lontano da te. Abbiamo circa un milione di metri quadri di magazzini in tutta Italia quindi polverizzati sul territorio, sono circa un centinaio e quindi spesso alcuni colleghi sono proprio anche geograficamente lontani. Lì dentro c'è di tutto, c'è da progetti trasversali, assegnazione a progetti trasversali, assegnazione a per esempio missioni all'estero, piuttosto che tutta una serie di attività che si potrebbero realizzare. Ora la trama diceva, Ceva Academy, formazione tailor made e contaminazione delle competenze. Ogni storia ha un flashback, quindi ogni storia ha dei ricordi. Questa è qualcosa a cui sono particolarmente affezionata. Vedete anche paesi lontani, vedete paesi che sono in Spagna, vedete Dubai, Bagni di Tivoli che è più vicino a noi, Assago, Pognano. Questo è per dirvi che è un sogno che si è realizzato. Quelli che vedete sono tutti partecipanti ovviamente alle iniziative, ma tra di loro si nascondono i nostri internal trainer. Ci sono affezionata anche perché questo modello, per una volta ogni tanto succede, l'Italia l'ha esportato all'estero e avevamo all'epoca, quindi vi parlo fino all'anno scorso, circa 200 internal trainer tra Turchia, Emirati Arabi, Sudafrica, Italia e Spagna. A gennaio dell'anno scorso abbiamo cambiato il perimetro, oggi siamo una report unit di una regione Europa, quindi alcuni di questi paesi non sono più nel nostro perimetro. E' cambiato anche il nostro ruolo di responsabilità perché da head office siamo diventati una report unit, quindi cambiano le relazioni e i rapporti, ma non cambia ovviamente il valore dell'esperienza che ci siamo portati dietro. E al contempo oggi ci occupiamo in Italia di tre business unit italiane diverse, profondamente diverse da un punto di vista di maturità organizzativa, proprio ce n'è da divertirsi, e quindi perché in qualche modo non dico replicare, però cercare di adattare il modello a queste nuove realtà, cercando di nuovo di cesello di andare a capire cosa può funzionare e cosa magari no, però non perdendo l'essenza di questo. La storia non è finita, questo è per dirvi semplicemente che ovviamente siamo continuamente sollecitati da mille richieste di cambiamento continuo, quindi c'è chi ci riesce subito evidentemente, c'è chi magari con difficoltà ma alla fine in qualche modo riesce ad adattarsi, e c'è chi sembra che si adatti e invece appena si leva dal colo d'ombra torna a essere esattamente come prima. Quelli che ti dicono sì sì adesso lo faccio e poi non si palesano più. Allora dobbiamo evidentemente tenere in considerazione perché la prima è giocare facile in qualche modo, la seconda può diventare molto interessante e anche dare tanta soddisfazione, e la terza evidentemente ti crea il problema. Il convegno a cui siamo qui oggi era iniziato un po' con l'idea della sfida HR. Allora in questa storia dove colloco HR? HR la colloco in questo modo, nel senso di nuovo per quello che abbiamo vissuto noi all'interno della nostra piccola esperienza. Sicuramente ha vinto il fatto di essere molto collegati con la linea, noi abbiamo degli HR business partner che sono molto dentro i processi della linea, molto sul campo, sugli impianti, nelle piattaforme e nei magazzini. Prima nei paesi, perché andavamo fisicamente nei paesi. Attività quindi di ascolto nei loro confronti, adattamento continuo degli interventi formativi in funzione ovviamente dei bisogni. Ovviamente c'è un concetto di replicabilità in tutto questo, però possiamo adattarci in funzione di quello che ci viene chiesto. E poi cose che ho sentito e a cui sono molto affezionata, un concetto di consistenza e coerenza. E di nuovo faccio degli esempi, spesso vengono lanciate delle iniziative che poi muoiono, implodono. Quindi la gente crede le attese, e poi il budget, non ci crediamo più, vedremo. Secondo me queste cose, personalissima opinione, sono assolutamente deleterie, sempre per il concetto di assertività. Se vogliamo che ci sia un successo, lanciamo un'iniziativa e come una goccia andiamo avanti e la portiamo avanti fino in fondo. E di nuovo non è sempre solo colpa degli altri, ma sta nel ruolo di facilitatore HR far capire che quella roba lì è importante. Se non credi a me te lo faccio dire da qualcun altro all'interno della struttura. Oppure se ha cambiato forma ci rimettiamo e lo andiamo a ridisegnare e a ridefinire. Quindi tre pilastri sicuramente che in qualche modo danno forza internamente, ripeto, alla nostra realtà sono l'ascolto attivo, l'adattamento degli interventi e la coerenza. Finisco dandovi un'ulteriore frase che non leggiamo ad alta voce perché è troppo lunga, ma credo che ogni tanto, o meglio, ultimamente ci abbiano un po' rubato la capacità proprio di sognare, che è tipica, io dico, dei bambini. Io ho un ragazzo oggi di 12 anni e da quando a due anni creava delle piste di trenini, col trenino di legno, che erano bellissime. E quando trovava degli ostacoli in camera, anziché dire, vabbè, ci rinuncio perché c'è l'ostacolo, c'è la gamba della sedia, c'è il comò, c'è il letto, ci girava intorno. E trovava il modo di girarci intorno. Alzava la pista, scendeva, prendeva delle scatole e alla fine creava delle piste che erano bellissime. Perché diceva che voleva guidare i treni da grande. Io non so se guiderà i treni, non ho idea. Gli auguro di fare quello che preferisce fare nella vita. Se questo lo rende felice, che li guidi. Però sicuramente i bambini hanno questa capacità di credere veramente che il loro sogno in qualche modo si realizzi e lo costruiscono giorno per giorno. Quindi alla fine credo che sia la forza più grande che possiamo avere. E molte delle esperienze, se ci pensate, che avete fatto e che avete realizzato e che realizzate su tutti i giorni, quelle che si sono create, io penso che siano collegate a qualcosa che avete in qualche modo fisicamente veramente iniziato a vedere prima ancora che le abbiate realizzate in qualche modo. Grazie. 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 Grazie.